Saluto da Dottor Palmas, ti mostro uno splendido caso di denti fissi con sistema bocca bionica. Quella che vedi è la stessa persona. Sì, ha tagliato i capelli, ma fai attenzione perché è la stessa persona. Nota quel furuncolo qua vicino al naso, è la stessa persona. Nota come i denti ringiovaniscono le persone, come ringiovaniscono il volto. Questa è la situazione di partenza, un paziente che aveva un grosso problema dal punto di vista di salute della bocca. C'era una parodontite in stadio terminale. Questa era la situazione, denti completamente cariati e distrutti. Questo è il paziente dopo la prima chirurgia, con i denti che sono stati posizionati su impianti dentali. Sei impianti nell'arcata superiore e altri sei impianti in quella inferiore. Questo è lo schema grafico di come abbiamo posizionato gli impianti dentali. Abbiamo posizionato i denti provvisori, a reggere quindi già la masticazione. Aspettati mesi, tempi di guarigione dei tessuti, ossei e gengivali. Dopodiché abbiamo posizionato sul paziente i denti definitivi. Sul lato sinistro vedi l'attacca tridimensionale che ti mostra quella che era la situazione di partenza. Una situazione veramente grave. Sul lato destro vedi tutti gli impianti dentali che sono stati inseriti. Abbiamo eseguito una proiezione di quello che era il risultato ottenibile. Abbiamo selezionato col paziente le forme dei denti che avremmo voluto creare. Con la linea superior abbiamo simulato i nuovi denti con lo zirconio. Questo è il risultato tra le labbra del paziente. Denti bianchissimi, le labbra avevano già di persona carnagione scura che fanno spiccare ancora di più il candore di questi denti. E questi sono i denti in posizione. Delle repliche perfette di denti naturali grazie alla progettazione computer guidata. Intelligenza artificiale e robotica che hanno permesso di risimulare dei denti reali che aveva completamente perduto questo paziente. Nota ancora una volta come noi restituiamo la gioia di vivere alle persone. Una persona completamente cambiata con questi nuovi denti.